Stamattina il segretario del PD ha annunciato ufficialmente che alle prossime europee il PD farà liste aperte alle forze europeiste ma anche alla società civile. Crede che sia una scelta che vada nella direzione giusta? In questo momento il nostro progetto politico è totalmente alternativo al Partito Democratico. In questo momento per come abbiamo conosciuto il Partito Democratico in questi anni lasciamo perdere il dialogo che si ha con singoli esponenti, con aree, con militanti ma il progetto del PD non sappiamo ancora quale sarà, se c'è un altro progetto. Se tu vuoi far vedere che fai un progetto alternativo con le stesse persone che hanno creato il disastro e fatto arrivare al governo, il governo più a destra nella storia della Repubblica Italiana hanno già deciso gli italiani, quindi la nostra è una valutazione negativa. Se invece si sta iniziando un percorso davvero di cambiamento, al di là del momento elettorale delle europee che credo che ci vedrà divisi, ma questo non vuol dire che non si possa aprire un dialogo. Poi la rapidità del dialogo e l'efficacia del dialogo dipende da tante cose. Io una sola la porrei come condizione per dialogare bene e che per poter rompere un sistema e cambiare, devi cambiare anche le persone che hanno da una parte prodotto il sistema e dall'altro fatto arrivare il peggiore effetto collaterale di quel sistema. Siccome ormai cominciano a pensare in molti, lo dicono e non lo dicono, ma è su piazza. Mescolo i due argomenti, c'è una riflessione su, chiamiamola così, il valore elettorale del sindaco di Riace che tutti stanno tentando in qualche modo di vedere se mettere anche nelle liste dell'europea. Allora guarda, noi stiamo lavorando in questi giorni per capire se ci sono le condizioni per candidarci. Mi sembra che aumentano i motivi e le ragioni che ci spingono a candidarci. Ovviamente abbiamo alzato molto, ma non per supponenza prosopopea o soverchia, però abbiamo come dire alzato molto il livello delle condizioni, proprio perché noi siamo anche amministratori di una città importante, portiamo una responsabilità, siamo anche consapevoli di essere un punto di riferimento per molte persone nel nostro paese insieme ad altri. È chiaro che se si dovesse mettere in campo un'opzione europeista che punti all'Europa dei popoli, dei diritti, della giustizia, della solidarietà, dell'uguaglianza, dell'umanità, dell'abbattimento delle mura, di fare argine non solo alle destre eversive, ma anche alle oligarchie liberiste, Mimmo Lucano per quanto mi riguarda dovrebbe essere uno dei protagonisti di questa coalizione ampia, civica, popolare e democratica. Ma se si dovessero creare le condizioni che non è il fronte della sinistra estrema, non è il fronte già visto, non è la sinistra del PD, non è il quarto polo, non è i recinti più o meno stanti, ma è davvero qualcosa di nuovo, noi ci saremo, ci saremo in prima linea, ci saremo tutti e ci sarò anche io, come dice, ci saremo. Però questo si deve capire da qui a breve, noi credo che lanceremo un'iniziativa a Roma, stiamo lavorando su questo molto a breve, entro Natale, quindi quando parlo di sciogliere i nodi è meglio mettere qualche condizione in più alta in modo da essere bravi a sciogliere tutti i nodi e a non lanciarsi quando c'è qualche nodo ancora stretto che poi ti fa da zavorra. Quindi per dare una tempistica, se noi riusciamo a sciogliere tutto questo entro Natale, noi sapremo se ci saremo. Oggi la volontà è di lavorare per esserci, perché siamo molto preoccupati del vento di destra che c'è in Europa e siamo anche molto preoccupati di quello che sta accadendo in Italia. L'appuntamento di Roma come DEMA? No, siamo tra i protagonisti di questo evento che stiamo organizzando, nel lanciarlo, nel fare un appello, ma è un appello alla raccolta e alla costruzione del campo, dove non ci sono pioli che recingono in modo stretto, però ci sono delle condizioni molto alte. Sia molto chiaro la rivoluzione che noi abbiamo in mente, il cambiamento vero che noi abbiamo in mente, la rottura del sistema che noi abbiamo in mente e la capacità di intercettare un consenso che oggi spinge molto verso destra, lo riesce a fare solamente se metti in campo un'opzione credibile e la credibilità è fatta anche dai volti e dai corpi delle persone, quindi in questo evento che immaginiamo, su quell'evento non ci possono essere i perdenti. Quali potranno essere i partner europei al di là dell'Italia? A noi interessa in questo momento aprire, noi non ci facciamo schiacciare da questo tema che pure ha un suo valore, attenzione, non lo voglio banalizzare, stai con Barufakis o stai con Melanchon, stai con Podemos o stai con... Noi dobbiamo provare ad aprire, allargare, oggi la partita è cambiata rispetto a questo qualche mese fa, oggi il vento di destra spila forte e sta unendo Orban, sta unendo gli austriaci, il nostro Salvini che diventa maggioritario in Italia nel giro di pochi mesi quando era addirittura minoranza all'interno del centro-destra, diventa il vero di fatto leader politico del governo, cioè Le Pen, quindi fronte a questo, ma chi capirebbe in Italia, soprattutto, se noi ci macerassimo all'infinito con un referendum, stai con Melanchon o stai con Barufakis? Io personalmente ho ottimi rapporti con entrambi e penso che entrambi possono stare in un progetto per costruire l'Europa dei diritti, l'Europa dei popoli, l'Europa della giustizia sociale e della solidarietà, però soprattutto a me interessa di costruire questo campo in Italia, perché sicuramente l'idea è quella di una lista che sia trasnazionale ed europea, ma poi i voti, il consenso, il messaggio, l'idea, il progetto di costruire in Italia, cioè è da Bolzano a Lampedusa che devi raccogliere il consenso e quindi è lì che devi far comprendere bene se ci troviamo di fronte a un'opzione che suscita entusiasmo, che è affidabile, che è di governo, che si può andare in Europa testa alta, io due anni in Europa ci sono stato, so che significa essere credibili, quindi se si costruisce un campo largo, una coalizione civica nazionale importante che interloquisce con leader europei significativi, io credo che c'è anche uno spazio molto maggiore di quello che si può pensare, perché io vedo che quel vento nero sta molto cambiando, cambia il vento e non si è incanalato, tocca a noi provare a incanalarlo sul piano politico nella direzione giusta per evitare che possa ritornare qualche spettro del passato, che qualcuno possa pensare che quelli di prima erano meglio di quelli di adesso, cioè noi in questa competizione sportiva ci tiriamo fuori. Ma lei potrebbe candidarsi personalmente? Se ci sono tutte le condizioni alte, se si riesce a fare come fece Sara Simeoni molti anni fa, di saltare così in alto da vincere quel record ci sarò, nel senso sono disponibile a mettere il mio corpo anche a capo di una coalizione politica di questo tipo, che non significa lasciare la carica di sindaco, significa esserci per costruire un'Europa che torna utile a Napoli, io poi dopo le elezioni continuerei a fare il sindaco di Napoli, l'opzione sarebbe quella. Però mi sto sempre di più persuadendo che Roma e Bruxelles e Strasburgo sono tre città che servono pure molto alla nostra città. Finora in sette anni e mezzo abbiamo fritto il pesce con l'acqua facendo diventare Napoli la prima città per riscatto culturale. Se riuscissimo ad entrare anche in luoghi in cui si prendono decisioni importanti io credo è un fatto assai proficuo e utile per le città, per i territori, penso a Napoli, penso a Riace ma penso anche alle città del nord, penso ai comuni, ai territori e ai diritti. Quindi se ci sono le condizioni sì altrimenti no. Se anche una sola delle condizioni che abbiamo posto, che adesso non posso sintetizzare ma è un elenco di condizioni molto ampio, non si realizza, non solo, io sicuramente non ci sarò. Il movimento deciderà ma ci siamo già confrontati, abbiamo fatto coordinamenti e segreterie, credo che non ci sarà tutto il movimento. Io sicuramente non sarò disponibile a mettere la mia carta d'identità.